Il Movimento 5 Stelle alla Camera ha preso più voti del PD, solo che siamo meno parlamentari perché il PD ha avuto un premio di maggioranza che è incostituzionale. Già questo ci dovrebbe far capire che è vergognoso cambiare le regole del gioco per farsi rieleggere da soli. Però a noi della legge elettorale in un momento del genere, con la scuola, nessuno parla della scuola, con 9 milioni di poveri che davvero campano in difficoltà, per noi non è intollerabile che si parli di più di legge elettorale. È passata, si andrà al voto con questa legge, per forza. Referendum? Non lo so, insomma, io il referendum lo farei per battaglie importanti appunto per la povera gente, non sulla legge elettorale.